Eccomi, sono Laura, ho 40 anni, molti di voi già mi conoscono, sono una giurista con esperienza amministrativa e per anni ho gestito lo studio e diagnostico di famiglia. Faccio politica nelle istituzioni dal 2013 e nella scorsa consigliatura sono stata vice sindaco. Insomma, non sono proprio una sprovveduta. In questi cinque anni ho lavorato con impegno e dedizione per restituire alla nostra città una chiara identità attraverso azioni concrete che hanno permesso ad Avellino di risollevarsi, di riacquistare dignità e consapevolezza del proprio ruolo. Adesso mi candido alla carità di sindaco con un progetto amministrativo per migliorare ulteriormente la vita, le aspettative e le opportunità di chi abita e lavora ad Avellino. A chi pensa che io non possa avere idee e visione, forza e cuore per realizzarle, non conosce la determinazione, il coraggio e le capacità di noi donne. Avellino è al centro del mio progetto di vita, è qui che parte la mia storia ed è qui che immagino il mio futuro.